Buonasera a tutti, questo è il secondo incontro del programma Tuteliamo le energie che la Caritas di Roma fa in collaborazione con le Agli. Ci soffermeremo nell'ultima parte dell'incontro a spiegare come procederà questo percorso, il collegamento tra i centri di ascolto e i CAF delle Agli di Roma, mentre continueremo la seconda parte della formazione con Liliana Ciccarelli, Liliana è una delle redattrici del manuale dei diritti e soprattutto è la redattrice che si occupa proprio del tema dell'energia nell'ambito della casa e dei consumi domestici e quindi tutta la sezione del manuale la cura legge. Oggi in particolare, dopo aver visto che cos'è il mercato tutelato e come va modificandosi in questo periodo, Liliana si soffermerà su chi sono le persone protette e le persone fragili e che tutele hanno e soprattutto ci farà vedere come navigare nel portale ARERA per avere le diverse offerte per capire meglio qual è l'offerta più adatta ai consumi delle famiglie. Ok, allora, buonasera a tutti e come diceva Alberto, io oggi piuttosto che preparare delle slide preferisco farvi vedere alcune sezioni del sito dell'autorità perché lì trovate tante informazioni utili anche di dettaglio e aggiornate ma soprattutto come poi vedremo trovate proprio uno strumento che è il portale offerte che serve proprio a rispondere a quella domanda, ma qual è l'offerta conveniente, cosa mi conviene? Siccome ci sono tanti portali privati online che in realtà nascondono spesso delle truffe come poi diremo meglio, l'unico portale ufficiale dove non si rischia nulla inserendo dati che dà informazioni vere, non verosimili e non ingannevoli è quello pubblico di ARERA per cui impareremo un po' ad utilizzarlo, vedrete, è veramente veramente semplice, però prima di analizzare il portale una parola su che cos'è ARERA, immagino che tanti di voi lo sanno però per scrupolo, allora precisiamo che ARERA è l'autorità di regolazione per l'energia, rete ed ambiente quindi di cosa si occupa? Di acqua, luce, gas e anche rifiuti urbani sugli aspetti tariffari, c'è una competenza che si sta via via implementando è un'autorità di regolazione del sistema che rende operative, attuative le normative di carattere legislativo quindi se c'è una legge che impatta sul mercato energetico naturalmente c'è un'autorità che deve poi mettere giù le normative tecniche e deve anche vigilare sul rispetto di queste normative con una particolare attenzione anche a delle competenze specifiche su questo per la tutela del consumatore e quindi diciamo in questo periodo storico è particolarmente importante avere dimistichezza con gli strumenti predisposti da ARERA così si chiama per diciamo l'acronimo proprio perché sono a disposizione, pensati, organizzati per la tutela del consumatore quindi il sito è semplicissimo, è arera.it e trovate già nell'home page quindi appena selezionate la pagina delle primissime informazioni ci sono alcune di natura molto tecnica perché questo sito naturalmente è un sito di riferimento per tutti gli operatori del settore ma ci sono delle sezioni come vedete pensate proprio per il consumatore a livello quindi informativo qui si cerca di parlare con un linguaggio che ahimè non è spesso semplicissimo ma comunque è già così pensato per essere rivolto al consumatore e qui trovate proprio delle guide e degli strumenti ad hoc allora intanto uno strumento semplicissimo è questo del call center, questo numero verde è un numero verde al quale rispondono degli operatori insomma diciamo che non sono i call center degli operatori di Enel, di Eni eccetera è il loro sportello e qui risponde del personale formato e diciamo altamente professionalizzato direttamente da Rera per dare delle informazioni ai consumatori e guida proprio il consumatore rispetto a molti aspetti anche a problemi che non attengono alle tariffe o altro e quindi vale la pena aver presente che c'è ancora la possibilità di parlare con un essere umano per porre un quesito e poi seguire un po' tutte quelle che possono essere le informazioni dello sportello del consumatore perché la Rera ha messo a disposizione proprio uno sportello per il consumatore ora non è questa la giornata per illustrare tutte le funzioni dello sportello però insomma prima o poi lo faremo Alberto perché naturalmente ci sono dei servizi molto precisi, molto analitici a disposizione ma diciamo il numero verde lo considererei diciamo con una certa importanza naturalmente ha degli orari di accessibilità conviene un attimino insistere se si ha un quesito insomma da porre noi però oggi abbiamo detto dobbiamo cercare di capire meglio chi sono i soggetti vulnerabili e cosa hanno a che fare i soggetti vulnerabili in questo momento di passaggio dal mercato tutelato al mercato libero voi avete delle slide molto ben curate anche molto tecniche che sono state illustrate la volta precedente quindi non posso adesso in due minuti rispiegarvi cos'è il mercato tutelato e cos'è il mercato libero il mercato tutelato ad ogni modo è un mercato che consentiva all'autorità di avere una qualche forma di controllo sul prezzo dell'energia attraverso un meccanismo che non so qui a spiegare e tuttavia diciamo il progressivo e necessario obbligatorio proprio eravamo un ritardo diciamo di non so più quanti anni rispetto agli adempimento delle normative europee ha imposto al nostro paese di liberalizzare completamente il settore anche della vendita dell'energia e del gas e questo cosa vuol dire che non c'è più una un prezzo come dire un mercato gestito con un prezzo controllato va bene tuttavia diciamo il nostro paese è riuscito a perché siccome passare da un mercato diciamo più stabile nei prezzi controllato eccetera a un mercato completamente liberalizzato può comportare diciamo delle difficoltà per il consumatore per orientarsi va bene ci siamo passati già tanti anni fa con la telefonia ma poi abbiamo imparato d'accordo e adesso la stessa cosa con l'elettricità però è stato molto importante che lo stato italiano e l'autorità di riferimento sono riusciti a come dire garantire una fetta di tutela di prezzo ancora disponibile per i soggetti cosiddetti vulnerabili e cioè sono stati individuati delle categorie di persone che o per problemi di reddito o per problemi di quindi di disagio legato al reddito ma anche a eventuali disabilità o per problemi semplici no problemi o semplicemente per dato anagrafico indipendentemente dal reddito sono stati considerati delle fasce di clienti come dire un po più fragili c'è meno meno avezze a navigare sui siti capire le offerte confrontare i prezzi eccetera e per tali categorie di persone è stata garantita ancora diciamo una tutela di prezzo d'accordo ora e quindi i soggetti vulnerabili sono i soggetti e ora vediamo come ce lo spiega in maniera molto semplice che hanno compiuto 75 anni di età che eh e sono alternative queste condizioni eh non bisogna averle in maniera cumulativa quindi puoi essere pure non lo so insomma una persona una volta si diceva Berlusconi ora dobbiamo trovare un termine per indicare un altro super ricco diciamo ma basta avere 75 anni e la categoria della tutela del prezzo è garantita eh e non solo su una fornitura ma tutte le forniture intestate a un soggetto che ha più di 75 anni indipendentemente dal reddito se la persona vuole naturalmente perché non è obbligata a stare nel mercato tutelato eh può eh godere di ancora di questa tutela eh può godere ancora della tutela di prezzo anche chi gode del bonus sociale eh e dei bonus per le condizioni di salute abbiamo fatto già una formazione per spiegare a cosa sono questi bonus trovate delle schede nel nostro manuale sostanzialmente ci sono delle soglie di reddito che sono state via via eh prima aumentate molto poi adesso stiamo in una fase invece in cui sono si sono di noi abbassate però mh sotto determinate soglie di reddito eh per l'elettrico e per il gas si ha diritto ad un bonus in automatico sulla propria bolletta e a queste persone proprio proprio in virtù di questo automatismo del bonus è eh garantita sempre laddove le persone non fanno una scelta diversa eh ancora la tutela di prezzo per quanto riguarda la disabilità e fa il riferimento normativo e quello dell'articolo tre della legge cento quattro godono ancora di questa tutela di prezzo coloro che abitano una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi e pensate fare tante zone terremotate o alluvionate o altro e e poi eh si è si è in un'isola minore in un'interconnessa eh naturalmente requisito fondamentale è eh il discorso dell'essere intestatario della fornitura eh questo soprattutto per il tema delle dei dei bonus sociali dei 75 anni e ok e e come faccio a eh come vedete qui Arera pone anche delle domande no che sono le cosiddette FAQ delle domande che presumibilmente eh ci siamo sentiti fare i nostri centri di di ascolto oppure noi stessi ci poniamo per capire meglio la situazione allora se sono un cliente vulnerabile lo devo dire al mio venditore questa è una domanda di buon senso no e allora il tuo venditore dovrebbe già conoscere la tua condizione eh se sei un percettore di bonus sociale elettrico proprio per quell'automatismo ehm e anche se hai compiuto 75 anni eh comunque hai la possibilità eh c'è un modulo che obbligatoriamente i gli operatori hanno inviato nelle bollette mh non mi ricordo di che periodo ma insomma ne hanno inviato più di una bolletta questo modulo ad ogni modo è disponibile anche sul sito dell'autorità per cui si può scaricare ora ora lo vediamo ed è per comodità lo abbiamo messo anche nella nostra sezione del manuale quindi se io sono un soggetto vulnerabile eh diciamo se ho già il bonus non serve comunicarlo eh se ho compiuto nel frattempo 75 anni è bene comunicarlo se ho una patologia eh di quelle rientranti all'articolo 3 è bene comunicarlo e c'è appunto il modulo di autodichiarazione va bene e cosa succede ecco ora non le scorriamo tutte queste domande però insomma quelle ehm che ci servono un po' a fissare alcuni concetti chiave sì cosa succede ai clienti non vulnerabili che non scelgono un contratto nel mercato libero ad esempio io non ho ancora 75 anni non ho la soglia di reddito che mi consente di accedere al bonus per cui diciamo non ho requisiti della vulnerabilità io per esempio diciamo che cosa succede nel momento in cui non ho scelto ancora un operatore sul mercato libero stiamo parlando dell'elettrico eh perché per l'elettrico tutto questo diciamo cambia a partire dal primo luglio che cosa succede allora se non sei un cliente vulnerabile e non scegli un quindi come me e non scegli nel mercato libero entro il 30 giugno 24 che cosa mi succede mi staccano la luce no passo automaticamente ad un servizio che si chiama servizio a tutele graduali eh che anche qui è un è una piccola diciamo così ehm fetta ancora di controllo tra virgolette di prezzo perché qui che cosa succede ci eh le le l'arerabe predispone delle aste pubbliche a queste aste ehm diciamo a queste aste concorrono i diversi operatori che sul territorio si aggiudicheranno la fetta di clientela che eh appunto non ha scelto come me eh un operatore sul mercato libero so se è chiaro questo passaggio eh per cui non vi spaventate se siete nel mercato tutelato oggi non fate nessuna scelta per il mercato libero potreste avere a partire da eh luglio agosto eccetera delle bollette magari da un altro fornitore evidentemente potrebbe essere un fornitore eh diciamo diverso da quello che attualmente da cui attualmente siamo serviti ma che ha vinto la gara e quindi è legittimato a fornirci l'energia sembrerebbe che al momento questo servizio a tutele graduali è abbastanza conveniente va bene e e comunque eh c'è proprio nella fattura ci dovrà essere l'intestazione servizio a tutele graduali è abbastanza conveniente infatti Arera ricorda che fino al trenta giugno coloro che sono oggi sul libero e voi e vogliono tornare eh sul mercato tutelato lo possono fare e quindi e e per godere poi di questa diciamo come se il mercato tutelato ancora attivabile fino al trenta giugno è come se fosse un po' l'ultima scialuppa su cui salire perché poi eh finito il mercato tutelato potrà godere della tutela graduale non so se è chiaro questo passaggio Alberto vogliamo riaprire un attimo l'audio perché questo è un passaggio che riguarda moltissime persone sì subito quindi ricapitolando se sei vulnerabile e sei nel mercato tutelato continui a rimanere nel mercato tutelato ma nessuno ti impedisce di fare un'altra scelta ok se non sei vulnerabile eh puoi godere non della tutela eh diciamo del mercato tutelato ma della tutela graduale ma per godere della tutela graduale devi venire dal mercato tutelato oppure scegli semplicemente un'offerta sul libero mercato non è detto che non ce ne siano di convenienti poi vediamo ehm chi vuole l'audio adesso è abilitato eh potete c'è qualcuno che continua ad avere problemi però di audio non so sì ecco posso posso ecco quest'ultima parte non mi è chiaro allora io c'ho qui la mia bolletta Acea mercato libero a tu sei mercato libero ok mercato libero ok che cosa succede a me che non ho 75 anni ma sono al di sotto dal primo non ti succede nulla perché tu già sei nel mercato libero da quello che mi dici quindi non devi fare alcuna scelta a meno che non vuoi vedere se c'è un'offerta più conveniente ma e allora non ho capito questa cosa del servizio tutela avevo capito che poteva cedere chi eh chi aveva il mercato libero allora se sei nel mercato libero se sei nel mercato libero ehm puoi fare eh verificare se la tua offerta è conveniente rispetto alle altre eh va bene ok ok poi se ha se sei un soggetto vulnerabile ma tu mi dici di no però se tu sei se tu fossi un soggetto vulnerabile potresti dire eh al tuo operatore guarda io sono un soggetto vulnerabile quindi applicami una tariffa della vulnerabilità e rimani con Acea oppure puoi dire perché c'è una tariffa della vulnerabilità oppure questo non l'ho detto scusate oppure puoi dire voglio tornare nel mercato tutelato e e tu laddove fossi anche un soggetto vulnerabile ci puoi pure rimanere nel mercato tutelato per i soggetti vulnerabili non finisce il mercato tutelato va bene e invece se una persona eh eh un utente sta eh pur avendo condizione di disagio economico sì di disabilità eh eh sta nel mercato libero enel sì ok e usufruisce del bonus sociale sì lui invece andando un cap potrebbe eh passare al mercato tutelato giusto sì sì entro il 30 giugno fa il passaggio e ci può rimanere però ripeto eh diciamo chiariamo subito una cosa chiariamo subito una cosa non è che stare nel mercato libero è qualcosa eh diciamo da evitare come la peste no ci sono stati problemi e forse ce ne saranno perché se uno impara a a conoscere eh il prezzo della eh di quello che sta pagando praticamente si rende conto se gli conviene o no rimanere ok allora io sono sicura che se se io vi chiedessi quanto spendete con la wind oppure quanto quanto spendete con la team più o meno me lo sapreste dire se io vi dicessi ora ma quanto pagate al kilowattora credo che proprio non lo sa nessuno ok e allora questo è il punto quindi vediamo prima quanto paghiamo a kilowattora se paghiamo se ci rendiamo conto che il prezzo è conveniente va bene pure il mercato libero voglio dire no quindi però è importante capire quali sono eventualmente i propri diritti nel senso che se sono un soggetto vulnerabile ho diritto a una tariffa eh diciamo della vulnerabilità oppure ho diritto a eh stare a rimanere nel mercato tutelato allora chi scrive qui mercato di maggior tutela soggetti vulnerabili ne hanno ancora diritto fino a quando c'è già una data di fine allora i soggetti vulnerabili non perdono il diritto per loro il mercato tutelato continua per gli altri per quelli non vulnerabili il mercato tutelato finisce il 30 giugno soggetti non vulnerabili non ne avranno più diritto dal dal primo luglio e finiranno nel servizio a tutele graduali allora i soggetti non vulnerabili finiranno nel servizio di tutele graduali se stanno già se oggi sono nel mercato tutelato ok per esempio la signora Rosetta è nel mercato libero per cui non passa alla tutela graduale io sono nel mercato tutelato tutelato con ASEA ehm servizio di maggior tutela non ho fatto nessuna scelta nel libero mercato e quindi dal primo luglio io avrò la tutela graduale va bene comunque non è difficile ora ehm di se voi poi vi riguardate e e e vi spulciate queste domande e queste risposte di Arera e anche la nostra scheda secondo me dovreste orientarvi e forse possiamo passare eh alla 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 simulazione diciamo così della verifica delle offerte eh una veloce domanda mi parlo che il passaggio io personalmente ero un mercato libero e sono passato a maggior tutela bene con l'elettrico stiamo parlando con l'elettrico ecco però mi hanno rappresentato che il passaggio richiederà dai trenta e sessanta giorni io mi sono mosso con anticipo ai primi di maggio però dico chiedo se qualcuno la domanda la fa tra dieci giorni i tempi tecnici di passaggio sono trenta e sessanta si trovano nel guado cosa potrebbe no 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 l'importante è la quando si fa la domanda questo lo specifico questo lo dice anche Arera vediamo se trovo proprio ehm se trovo proprio in qualsiasi momento eh no allora per l'elettricità fino alla scadenza del primo luglio è possibile chiedere di quindi fino alla scadenza del primo luglio è possibile chiedere di rientrare nel servizio di maggior tutela perfetto però ecco il mio dubbio ma non tanto per me ma quanto per gli ascoltatori e sulla base di quello che mi hanno detto gli operatori dice ci vorrebbero potrebbero volerci trenta e sessanta giorni ecco quindi eh sì allora i tempi dello switch del così i tempi dello switch possono essere eh diciamo di trenta giorni però l'autorità ha precisato che fino alla scadenza eh della fine del mercato tutelato è possibile tornare nel mercato tutelato è importante accertarsi che eh sia stata eh registrato il passaggio all'esercente della maggior tutela individuato quindi questo la la rela lo ha proprio come vedete ce l'ha proprio nell'home page grazie fino alla scadenza del primo luglio è possibile chiedere di rientrare ecco qua va bene una domanda veloce domenico ha scritto se chi ha più di settantacinque anni doveva fare anche in passato per gli ultra settantacinque anni c'erano delle eh agevolazioni e delle domande da fare allora eh c'erano delle cose particolari sul gas per gli ultra settantacinque anni e no ma ad ogni modo il requisito della della vulnerabilità collegato all'età diventa importante oggi in questo frangente diciamo va bene eh i requisiti i requisiti precedenti e diciamo poi bisogna capire se magari si riferiva a qualcosa di particolare però il requisito della vulnerabilità individuato nell'età è rilevante oggi per il per questo discorso del mercato libero invece Rita chiede come si fa la domanda al fornitore per rientrare nella maggior tutela allora eh semplicemente si individua chi è il eh chi è eh l'esercente eh l'operatore della maggior tutela va bene quindi per esempio a Roma è a CEA per l'elettrico e l'autorità ha messo proprio un motore di ricerca vabbè ma noi adesso noi siamo a Roma ci interessa questo ma ha messo un motore di ricerca proprio per facilitare eh appunto la ricerca dell'esercente a cui andare a chiedere eh questo quindi per noi è a CEA servizio di maggior tutela eh si contatta semplicemente a CEA però specificando che eh si c'è si si vuole rientrare nella maggior tutela perché a CEA è presente sia sul libero che sul mercato di maggior tutela quindi dobbiamo contattare ehm a CEA servizio di maggior tutela va bene e sto guardando la nella bolletta per esempio eh vi do se volete il numero fisso di a CEA maggior tutela è il numero verde che è ottocento cento novantanove novecento d'accordo? Si si contatta e si dice però mi raccomando fatelo eh nelle tempi può ripetere il numero per certezia ottocento cento novantanove novecento e si chiede eh prima verificate che non lo siate già perché in molti sono andati proprio nel panico e quindi e poi magari no? Quindi verificate la vostra bolletta c'è scritto sempre se è maggior tutela se è libero e se eh volete rientrare nella maggior tutela nell'elettrico c'è ancora tempo per farlo e e lo potete senz'altro fare va bene? E che dite possiamo passare intanto al secondo argomento e poi se ci sono altre domande però ehm volevo ecco farvi vedere eh bene questi passaggi che sono proprio da appena si apre il sito di Arera verso la fine del mercato tutelato e qui trovate tutto noi abbiamo parlato dell'elettricità perché il gas ehm diciamo è già terminato da da un po' eh però anche per il gas e il mercato il mercato sì della maggior tutela diciamo però anche per il gas i requisiti della vulnerabilità sono i medesimi eh quindi 75 anni la condizione di disagio fisico e le condizioni economiche sbandaggiate come vedete per esempio qui c'è anche il modulo ma come vi ho detto vi abbiamo lo abbiamo anche messo noi e l'ha legato al nostro alle nostre schede eh per comunicare il la propria condizione di di eventuale vulnerabilità va bene? allora in tutte le bollette emesse tra settembre e dicembre e almeno una volta l'anno a partire da settembre duemila e ventiquattro i venditori hanno obbligo di dare comunicazione istituzionale hanno l'obbligo di inserire una comunicazione istituzionale indirizzata a tutti i clienti del mercato libero e relative ai diritti dei clienti vulnerabili ok quindi l'autorità diciamo eh continuerà a fare in modo che eh diciamo il cliente che magari non non segnala oggi la propria vulnerabilità non è che perde il diritto cioè mh e eh a segnalarlo in qualsiasi momento va bene e tant'è vero che l'autorità come avete letto obbliga gli operatori a dare periodiche comunicazioni eh in bolletta eh circa appunto la possibilità di segnalare la condizione di vulnerabilità quindi un altro alert che vi voglio dire è questo cioè le bollette eh guardiamole perché in genere c'è veramente quasi tutto quello che dobbiamo conoscere sta nel scritto nelle bollette allora eh vogliamo passare al secondo aspetto perché sono già le diciotta e quaranta e tra gli strumenti che eh l'autorità ha messo a disposizione eh oggi parliamo e lo vediamo proprio questo il portale offerte quindi basta andarci sopra ecco qua e e ci dà la possibilità di un confronto semplice affidabile tra le offerte luce e luce e gas ok ora eh perché eh insisto tanto su questo portale perché mh diciamo come vi dicevo prima ci sono tanti eh portali eh privati compara offerte compara facile a che sono sostanzialmente eh dei portali privati in cui magari un gruppo di operatori eh fa pubblicità alle proprie offerte e magari eh come dire mh offre la possibilità se quando va bene offre la possibilità di una raffronto molto parziale perché eh diciamo non ci sono tutte le offerte disponibili sul mercato quando si becca qualche insomma qualche furbastro invece uno va per selezionare un'offerta e poi se la trova appioppata così perché catturano i dati e e interpretano quella ricerca di informazione sull'offerta tal dei tali come una richiesta di contrattualizzazione quindi diciamo mh ci sono anche delle sanzioni che sono state già combinate se non sbaglio dall'antitrust su uno di questi portali perché creavano delle comparazioni anche ingannevoli per cui diciamo evitatele andiamo su questo portale e vediamo un attimo eh simuliamo la necessità di dover scegliere un'offerta parliamo dell'elettrico perché è questo il però poi passiamo anche al gas se insomma se volete allora eh inseriamo il cap del nostro comune zero zero uno nove nove dove so io per esempio e vediamo cosa altro ci chiede allora qui mi dice eh sono interessato ad un'offerta eh solo di elettricità ad un'offerta gas oppure a una dual fuel che cosa sono le dual fuel sono quelle offerte in cui chiediamo allo stesso operatore di fornirci con una in una stessa fattura sia elettrico che il gas offerta dual va bene facciamo l'opzione più semplice un'offerta solo per l'elettricità cosa mi chiede allora dove vuoi attivare la tua offerta in una casa oppure non so altri usi tipo un negozio un locale commerciale perché eh può essere diversa l'offerta ma sono diverse anche alcune voci di costo eh l'attiviamo per casa d'accordo ora qui mi dice eh hai se ho un già il codice di un'offerta e lo vuoi confrontare con altre inserisci qui il codice io non ho un'offerta in questo momento però potrebbe visto che ci telefonano continuamente per proporci un'offerta magari se noi vogliamo prendere nota di un codice di un'offerta per poterla poi confrontare magari lo facciamo va bene però non ho questa informazione e allora il portale mi dice vuoi un prezzo fisso o un prezzo variabile e questa è la domanda delle domande come quando si fa un mutuo no come come lo vuoi il tasso di interesse fisso o variabile come sappiamo c'è stata un'oscillazione di prezzo dell'energia pazzesca nel duemilaventidue e poi in parte rientrata gradualmente per cui quelli che avevano il prezzo variabile ahimè hanno pagato bollette diciamo anche duplicate o triplicate quelle che avevano un prezzo fisso hanno tenuto salvo poi però l'amara sorpresa di vederselo cambiato il prezzo dall'operatore stesso se volete la facciamo in tutte e due le opzioni però dovendo adesso fare una simulazione facciamola con il prezzo fisso va bene sono residente sì perché è importante perché c'è tariffe diverse quindi ho selezionato sì e vado avanti allora adesso mi dice scegli la potenza allora noi a casa abbiamo in genere o i 3 o i 4,5 kilowatt se abbiamo magari ma questo lo vedete nella bolletta eh c'è scritto c'è proprio caratteristiche fornitura i 4 kilowatt in genere li mettiamo qua se abbiamo un impianto di condizionamento molto potente magari per evitare che scatti però in genere abbiamo 3 kilowatt va bene se è interessato a un prezzo per fasce oppure a un prezzo monorario allora se noi siamo quei consumatori che sono attenti all'orario della lavatrice va bene perché sapete che fare la lavatrice in tarda sera di notte è la fascia più conveniente allora magari vado per le fasce d'accordo in maniera tale che mi trovo magari delle offerte che fanno una certa differenza tra le diverse fasce sono un ecologista particolarmente attento e quindi voglio delle offerte che mi garantiscano che l'energia proviene solo da fonti rinnovabili e non dal fossile diciamo per avere una un ventaglio più ampio di scelta al momento diciamo no va bene perché le energie poi lo facciamo la prova le energie le offerte potrebbero essere un po' di meno quelle che provengono solo da fonti rinnovabili quindi facciamo no aggiungere criteri vabbè andiamo avanti confronta aggiungi selezione che manca qualcosa scusate che cosa manca non ho messo in mannaggia si intoppa proprio quando non deve allora aggiungere criteri rinnovabili no categorie dell'offerta sconti sempre applicabili sì qualsiasi sconto cioè seleziono delle offerte dove ci sono previsti perché no anche degli sconti prodotti servizi aggiuntivi non lo metterei modalità di attivazione allora alcuni contratti come sapete sono eh selezionabili solo sul web va bene noi mettiamo qualsiasi canale cioè quindi posso anche telefonare e e farlo applicare e modalità di pagamento come domiciliazione bancaria in genere va bene onere di recesso anticipato no non voglio pagare i penali se ne vado e però non me lo fa selezionare perché purtroppo quelli da contratto mi sa che ci sono sempre confronta e ragazzi non va non va il confronto aiuto come vai non escono cuori mannaggia ricominciamo da capo perché si è inceppato vado più velocemente di come sono andata prima l'accesso non è obbligatorio l'accesso iniziale su in alto no no non è la qui non richiede l'accesso ehm dici questo no l'ho fatto sempre senza faccio faccio velocemente vediamo eh magari se è impallato un attimo vedi non mi prende non mi seleziona bene il campo forse è sbagliato mannaggia il campo è obbligatorio prezzo fisso sei residente sì non vorrei che la condivisione possibile che vedi cioè non mi blocca la selezione mannaggia la miseria l'avrò fatto centomila volte eh proviamo il gas magari se c'è un blocco in questo momento allora sto facendo la prova sul gas e il contatore e e questo fino a G6 quello domestico eh mannaggia ragazzi e non so per quale motivo non ci deve essere qualche problema proprio qualche blocco adesso a meno che no non sono tenuta non sono obbligata ad entrare con lo speed il portale va bene abbiamo scoperto che in questo momento il portale da forfè e quindi prova prova a togliere la connessione e farlo senza essere connessa faccio questa prova e poi sì vediamo quindi adesso ho tolto la condivisione no ok allora vado per conto mio ok vado per conto mio e vi dico eh 0099 inizia energia elettrica casa prezzo fisso si scegli la potenza 3 kilowatt e scelgo la fascia rinnovabili no e dobbiamo navigare o tra un po' e intanto se volete facciamo no mi mi spiace moltissimo perché volevo farvi vedere il sistema veramente semplice di di confronto che Arera aveva eh individuato facendo attenzione beh condividiamo altre condividiamo altre altre schermate perché è importante capire così andiamo avanti lo stesso noi è importante capire che il confronto di prezzo tra un'offerta e l'altra non la si fa in maniera eh come costo complessivo della bolletta perché ci sono alcune eh voci della bolletta che sono praticamente fisse e che sono gli onere di sistema le imposte d'accordo? allora c'è Daniele che è collegato online dice che il sito ha problemi perché arrivati in fondo dice connessione non sicura quindi c'è qualche problema al sito eh c'è qualche problema in questo momento però al sito maggia la miseria siamo stati sfortunati però allora eh continuo un attimino a condivido con voi altre eh passaggi diciamo per comprendere comunque come si confrontano dei costi ehm ehm dicevo eh nella bolletta noi in realtà eh paghiamo eh molte eh ci sono molte voci la spesa per la materia energia la spesa per il trasporto gli oneri di sistema va bene quindi eh per poter fare alcune di queste sono indifferenti sia che siamo con un Edison o con Acea o con un altro operatore e quindi diciamo dobbiamo eh confrontare il prezzo della materia energia e quindi controllare il costo del chilowatt eh per quanto riguarda l'energia e del metro cubo di gas per quanto riguarda eh il gas e e quindi eh e da lì capire appunto eh se eh vi faccio un esempio sulla energia adesso ci sono delle offerte a venti centesimi a zero venti centesimi ma ce ne sono anche alcune a zero diciotto e quindi naturalmente se 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 eh avessimo avessimo avremmo avremmo potuto fare questo confronto eh tra un'offerta e l'altra però anche quando scopriamo che c'è un'offerta eh più un'offerta che ci sembra molto conveniente non so uno zero quindici zero venti a kilowattora dobbiamo anche controllare che non ci siano dei costi una tantum eh costi eh che l'operatore comunque eh contrattualmente prevede e Arera lo lo chiede che venga evidenziato eh tipo costi di gestione amministrativa piuttosto che ehm altri tipi di costi che possono essere anche significativi eh dieci euro mese quindici euro mese e che quindi poi alla lunga in un anno mi vanno ad erodere quella eh quella convenienza diciamo eh del del kilowattora ok quindi va bene controllare il costo della materia energia eh però attenzione anche a verificare che oltre alle imposte agli oneri di sistema e di trasporto che sono le macro voci che diciamo ineludibili non ci siano anche voci tipo costi amministrativi costi una tantum e cose di questo genere o meglio anche laddove queste spese ci sono dobbiamo capire se ci appaiono congrue perché un conto è eh due euro mese un conto è dieci euro mese e ci sono anche dieci euro mese un'altra cosa da verificare quando controlliamo le offerte è anche la possibilità degli sconti che obiettivamente gli operatori fanno laddove si garantisce la permanenza almeno per un anno o per due anni con lo stesso operatore cioè se se mi garantisci che rimani con me eh sorgenia per un anno a al dodicesimo mese di fornitura avrai uno sconto pari all'X per cento sulla su su quanto getto di spesa per la materia energia. Questi sconti possono essere interessanti non è non sono delle bufale insomma no? L'importante però è che eh diciamo ci limitino eh per un tempo congruo con un operatore ora rimanere per un anno con un operatore in genere è anche un tempo utile per capire poi diversi mesi no? Perché il consumo soprattutto nel nel gas può variare molto da estate o inverno ma anche ormai con l'elettricità se pensiamo a magari di di condizioni di condizionatori in estate per cui dopo un anno di ehm permanenza con un operatore naturalmente eh dove c'è stato sia il periodo invernale che il periodo estivo si ha modo di capire se l'operatore diciamo così è eh è conveniente quindi potrebbe essere eh interessante eh questi bonus fedeltà prenderli in considerazione e non pensare che siano eh delle delle bufale insomma eh ora non so se qualcuno sta provando ad andare di nuovo sul sito Arera e vedere se si è ripreso altrimenti se volete possiamo se avete delle domande intanto possiamo ehm aprire i microfoni un tanto sto provando magari questo questo discorso se se vogliamo se non dovessimo riuscire a sbloccare adesso dovreste avere i microfoni attivi adesso quindi Anna Maria può intervenire direttamente visto che ha chiesto ok eh sono Roberto in realtà Roberto scusa ho letto no no ma è corretto eh io sono di di la parrocchia di Tordecenci ehm volevo sapere l'ho anche messo sulla sulla chat si conoscono i prezzi della fornitura con particolare riferimento alla parte fissa dei di quelli che hanno vinto eh di l'appalto di che forniranno i servizi di tutelle graduali sì eh però eh diciamo non vi dovete immaginare opla vi ho persi eccoci vediamo eh allora ecco allora naturalmente queste aste sono aste pubbliche e e c'è la società di acquirente unico che gestisce le aste per conto della dell'autorità dell'energia che pubblica periodicamente l'esito delle aste d'accordo e regione per regione eh e quindi macro area per macro area eh diciamo che ehm naturalmente mh come potete immaginare sono eh altamente tecniche queste questi tabulati che pure vengono resi pubblici eh per cui con un po' di attenzione andando a spulciare si trova tranquillamente il prezzo di riferimento eh e l'assegnazione delle aste come come è andata e quindi sì sono sono sicuramente pubbliche le trovate sul sito di acquirente unico che è la società che gestisce per conto di di arera appunto eh le aste quindi vedete regione per regione chi le vince eh la durata eh dell'assegnazione e le condizioni economiche eh mi permetto io ho già fatto questa ricerca ho già visto chi vince e chi ha vinto la gara d'appalto su Roma ci sono una serie di codici ma semplicemente che illegibili non possono essere decodificati e un prezzo per dire il servizio costo fisso per la fornitura dell'energia del servizio tutela graduali sarà questo che poi è il meccanismo che permette di capire se ci conviene o meno perché chi è al mercato libero adesso e dice voglio passare al maggior tutela però non ha un parametro di riferimento ma spera solo che sia più conveniente non può confrontarlo non può verificarlo io ho cercato diversi siti per avere questo parametro fondamentale se lei mi può fornire un link o un indirizzo dove andarlo a vedere perché non è in chiaro è criptato se potrebbe dire quasi. Allora vediamo eh vediamo se lo trovo. Grazie. Ecco qua condivido questo e lo leggiamo insieme no ripeto è ehm la materia è è una materia complessa altamente tecnica eh l'autorità mette a disposizione tutte le informazioni possibili immaginabili e per poter dare un confronto quindi sperimentiamole ora mi dispiace enormemente di questo di svuido sulle offerte perché era veramente semplice. Allora questo è sul sito di acquirente unico sono andata e questa è la procedura concorsuale per l'individuazione degli esercenti la vedete? A tutelle graduali per i clienti domestici da luglio duemila e ventiquattro a marzo ventisette quindi sappiamo anche la durata dell'affidamento di questo incarico. Allora eh come vi dicevo eh come vi dicevo è diviso per aree e per le imprese che hanno vinto queste aste quindi noi dove siamo qua? Area nord, area centro, area centro Roma Comune è nell'energia. Lei dice questo prezzo eh il eh è su base annua? Questo prezzo è su base annua. Lei dice come faccio a capire a quanto mi corrisponde poi? Esatto. Ok. Allora eh questo adesso dovrei fare ulteriore ricerche va bene però in genere Arera decodifica questo eh con dei comunicati stampa eccetera. Ad ogni modo considerate che eh se eh appunto chi è che l'ha vinto da noi eh se è nell'energia ha vinto a questo prezzo va bene e quindi mh ha offerto una riduzione eh diciamo rispetto al al prezzo di partenza di asta questo indica il prezzo di riduzione naturalmente ehm diciamo è obbligata a fatturare rispetto al prezzo che poi ha comunicato alla ad Arera non è che si possono cioè che c'è un un arbitrio più di tanto eh quindi dobbiamo anche un po' fidarci tra virgolette del fatto che ci sia un ente di controllo eh rispetto rispetto a a all'esito delle aste pubbliche va bene? È già diverso rispetto al prezzo applicato nel libero mercato però senz'altro c'è una decodificazione di questo prezzo se avete voglia facciamo insieme qualche altra ricerca oppure magari la faccio io con più calma e la mando a ad Alberto va bene su su questo maniera tale da consentirvi eh da consentirvi un ulteriore controllo vediamo un attimo torno sul sito di acquirente unico per capire se c'è altro no qua ci sono tutti altri comunicati allora c'è Anna che dice è riuscita con il cellulare a a fare a un lungo elenco un lungo eletto elenco di offerte molto diverse tra loro funziona ma è un'impresa ora studiare tutti i dettagli no no non è un'impresa mannaggia quindi col cellulare è accessibile e no non è un'impresa allora Anna magari senti Alberto ma non è che magari lo puoi provare a fare tu non vorrei che fosse un blocco del mio computer per qualche motivo e io e io te lo spiego poi sì allora lascio gli audio aperti ok quindi abbiamo detto è venuto fuori un lungo elenco di offerte ok ora in questo elenco di offerte non ci dobbiamo spaventare dobbiamo andare a vedere il prezzo della eh dell'offerta a eh diciamo come dicevo prima a kilowattore intanto le offerte sono messe in ordine diciamo così eh di da quella più conveniente a quella meno conveniente eh non so se vuole prendere la parola chi è che l'aveva trovato Anna eh sì sono io Anna e sono qui a con la Caritas della Gesù Buon Pastore e mh faccio parte delle Acre e dunque veramente queste offerte sono veramente variegate sì e c'è Engie Italia mh poi ho detto che io voglio consumare questa 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 energia tutto l'anno perché poi chiedo no solo nel weekend oppure c'è quindi la prima sono per esempio ottocentotrentacinque 96 annui poi c'è scritto vai al dettaglio quindi immagino che poi nel dettaglio vabbè vada un attimo Anna se ti interrompo allora tu hai dovuto sicuramente mettere anche ehm la stima del consumo annuo giusto? Sì sì la stima del consumo annuo l'hai presa dalla bolletta perché in ogni bolletta noi abbiamo anche l'indicazione di quanto no spendiamo di quanto consumiamo quanti kilowatt ore consumiamo ogni anno quindi prendendo quel numero che in genere è abbastanza evidente in bolletta c'è anche un grafico per renderlo evidente prendendo quel numero eh per esempio poi la io so la mia bolletta sotto mano nel mio caso è duemila e passa kilowatt annui quindi tu hai inserito il tuo e ti sono venute fuori delle offerte allora io non l'ho inserito in realtà perché adesso la bolletta proprio sotto mano non ce l'ho però ho messo che io voglio consumare esatto eh tutto l'anno e che però non conosco il mio consumo annuo e quindi praticamente mi sono arrivate tutte queste offerte che sono veramente tante adesso stavo cercando il modo intanto di fare una stampa iniziale del di di tutto questo elenco che attenzione attenzione scusami non è per interromperti ma per interlocuire così allora eh potrebbe non essere eh una cosa molto utile fare una stampa sai perché perché per esempio l'offerta di Engie che adesso tu trovi come quella più conveniente se vai fra tre giorni possibilmente non la trovi più infatti c'è scritto fino a quando se ci fai caso c'è scritto offerta disponibile fino a c'è una finestra esatto c'è una finestra a quattro giugno per esempio quindi se tu eh se tu chiami a Engie e dici io voglio questa offerta che si chiama offerta dettagli eh lo devi fare entro il quattro giugno perché questa per esempio di ottocentotrentacinque all'anno allora ci sono riuscito mettendo il tuo cap eh ho fatto delle scelte poi mi dice quali elettrodomestici ho in casa ho fatto una scelta e e appare questa lista. Oh ok allora guardiamo questa lista che ti appare e vai alla voce eh dettagli ok? Eh no qual è il dettaglio? Eni vai quella di Eni ti dice Eni allora intanto scusa un attimo già ci dice che questa offerta di Eni torna un attimo indietro il sistema ce lo mette a paragone già con il eh il costo della maggior tutela e ci dice questa offerta di Eni viene a costare ventisette euro in più mi pare che avevo letto rispetto alla maggior tutela quindi ahimè sappiamo già che è più cara della maggior tutela ma sappiamo che alla fine sono ventisette euro in più in alcuni casi è molto molto di più va bene quindi è un'informazione cosa ci dice anche eh ci dice che questa offerta vale ventiquattro mesi quindi non vale solo un anno alcune offerte valgono solo un anno eh e eh si applica scorri un attimo come vedete eh a fianco abbiamo l'evidenza di quelle che sono le macro voci materia prima eh trasporto e gestione contatore oneri di sistema poi verificheremo che oneri di sistema e trasporto più o meno incide nella stessa misura anche con le altre offerte quindi dobbiamo andare a capire eh le imposte pure la prima voce è quella che ci interessa di più la materia prima scusami stai scorre? Ecco ehm trecentocinque virgola cinquantuno è la stima che ci fa di consumo e qui ci dice eh tu hai scelto le fasce giusto? E ci dice che noi su questa offerta andiamo a seconda delle fasce a spendere per la materia prima da zero venticiotto da zero undici a zero ventidue ok? Non mi pare che ci siano delle eh dei costi fissi scorriamo un attimo verso il basso eh vedi qui eh condizioni contra condizioni economiche variabili ah ecco però tu hai messo condizioni economiche variabili scusa guardiamo questo grafico che è molto interessante nella selezione che ha fatto Alberto non ha fatto una scelta di eh costo fisso ok? Ma eh ha fatto una scelta eh di indicizzazione quindi con un costo variabile per cui quel costo della materia prima è eh diciamo rapportato poi ad un indicatore che è questo PUN che abbiamo imparato a conoscere soprattutto quando è schizzato alle stelle nel duemilaventidue che come vedete in realtà è in progressivo come dire calo c'è stato questo picco adesso a ottobre ma insomma nel duemilaventidue era era ancora più alto questo indicatore di grafico ok? Per cui diciamo se non succede veramente qualche altra cosa di catastrofico di più di quello che è successo questo però questo è una scelta prego è una scelta di un'offerta variabile vogliamo provare a fare una scelta di un'offerta fissa vediamo se me la fa fare così allora eh pezzo fisso casa ma tu hai messo un altro cap Alberto? Ho messo il tuo. Ah eh vedi allora vabbè come quello che mettevo io? Vai avanti. Sì come quello che sì. Eh vai avanti. Tre kilowatt fasce? Lascio fasce? Sì. Eh consumo anno o no? No mettiamo sì perché ce l'abbiamo nella bolletta quindi così è ancora più veritiero no? Metti per esempio due zero sette sette. Ok io lo trovo nella bolletta eh? Sì. Va bene e confronta e ha trovato quante offerte? Duecento venticinque. Allora siccome c'è ancora la maggior tutela ancora mi mette la maggior tutela con una spesa annua stimata in cinquecento ventiquattro euro naturalmente se io eh cambio eh cambio drasticamente i miei consumi naturalmente cambia anche quell'importo no? Questo è ovvio se io non ho il condizionatore e poi lo impianto e presumibilmente vado a a a spendere di più. Allora la prima offerta utile è Lumen Energia che mi dice vai a spendere solo cinque euro in più rispetto alla tutela. Andiamo con un'offerta però di un operatore un po' più grande. A due A già è un operatore più soli cioè solido più conosciuto uno magari si può affidare di più e e andiamo a spendere cinque euro in più rispetto alla maggior tutela. Vedete? Vogliamo apriamo questa di A due A vediamo cosa c'è. Vedi? Vai al dettaglio. Vai al dettaglio. Allora che cosa mi dice? Intanto scorriamo un attimo scusa Alberto. Anche questa è valida per ventiquattro mesi. Eh anche qui vediamo fino a quando è opzionabile questa offerta. Forse sopra. Forse sopra. Valida dal dieci maggio al dieci giugno. Quindi questa offerta è valida fino al dieci giugno perché le offerte cambiano di continuo eh. Ora spendere soltanto cinque euro in più rispetto alla maggior tutela non mi sembra un dramma no? Per dire eh quindi magari la terrei. Vediamo se ci sono altre informazioni utili ehm come vedete non so se vi ricordate gli importi che avevamo visto prima ma erano centotredici prima ora sono centoquattordici trasporto e gestione oneri di sistema identici a quelli che abbiamo visto prima. Materia prima energia che è questa abbiamo detto quella su cui andare a fare la al confronto e apri cioè su cui il sistema qui del portale fa il confronto. Ok e qui eh sì è abbastanza eh conveniente perché addirittura parte da zero tredici e diciamo sì attualmente ci sono tante offerte che stanno anche intorno a zero venti ma questo basta lo potete vedere anche voi scorrendorle tutte le offerte no? Vediamo se c'è qualche eh piccolo trucchetto che magari ehm qualche costo fisso magari vediamo eh costo fisso anno qui addirittura te lo te lo va a scorporare quindi vuol dire che te lo va probabilmente a a a scontare non mi sembra che ci siano scusa Alberto scorri non mi sembra che ci siano ecco qui c'è un bonus di centoquattordici euro l'anno che sono sempre quei bonus fedeltà va bene dico non mi pare che siano evidenziati dei costi a diciamo eh amministrativi quelle cose lì che poi vanno ad erodere l'effettivo a convenienza quindi questa diciamo vista così non mi pare nasconda grandissime insidie questa offerta va bene è un'offerta a prezzo fisso e modulata è attivabile solo da web? Questa è attivabile offerta attivabile prezzo punto vendita no anche teleselling e agenzia ah però qua non si capisce perché dice offerta solo da web no però siccome ti mette le mette tutte capito capito come ragiona dice siccome la tendina era alternativa qui te le metti tutte quindi questa la puoi attivare in tutte e anche le modalità di pagamento sono e anche con bollettino precompilato cioè non non ti chiede per forza la domiciliazione bancaria ok non mi sembra che questa offerta nasconda dei tranelli troppo evidenti poi naturalmente uno chiama se la fa spiegare bene questa offerta eh se c'è qualcosa su cui è in dubbio insomma eh se posso generalmente a un certo punto ci sono le condizioni se non viene messo il la debito bancaria bisogna mettere delle ehm come si chiama delle cauzioni garanzie delle garanzie questo vale sempre questo vale da sempre così cioè se io però se uno la domiciliazione bancaria non devo fare nessuna lo spiega lo dice infatti sotto la voce garanzie ecco lo spiega con la domiciliazione non c'è bisogno di depositi questo per commentare quello che diceva Liliana che diceva per evitare sorprese poi magari uno pensava di non dover lasciare la caparra ecco perché se non ha la domiciliazione bancaria deve lasciare una caparra e sono variabili da fornitore esatto però esatto questo bisogna saperlo che se non c'è domiciliazione bancaria c'è il deposito cauzionale che si eh fattura alla prima eh fattura e varia però ricordiamoci anche un'altra cosa che laddove io dopo due tre mesi quattro mesi decido di domiciliare la bolletta quel deposito mi viene restituito sempre in fattura d'accordo quindi se c'è un deposito cauzionale è bene saperlo è bene sapere anche l'importo che non mi viene un coccolone se mi vedo cento euro ma in genere sono dai trenta quaranta insomma ad ogni modo laddove scelgo scegliessi di domiciliare la bolletta quel deposito mi viene restituito ok non so vogliamo vedere un'altra offerta ormai abbiamo capito come leggerle no bisogna prenderci un po' di dimistichezza come vedete ci sono tante eh case diciamo ecco già uno prende ASEA che è sicuramente molto conosciuta eh e però sappiamo che ASEA eh la la sua migliore offerta sul mercato libero rispetto a quelli consumi che abbiamo detto noi mi porta a spendere già settantotto euro in più rispetto alla tutela ok l'avete notato qui sappiamo anche che la le condizioni valgono dodici mesi quindi è un contratto che eh diciamo così si rinnova più velocemente vedete oneri di trasporto e oneri è sempre uguale e vediamo se qualche qui se ASEA magari ha qualche offerta contrattuale più interessante perché se mi fa pagare di più la materia prima però vediamo se magari ha uno sconto alla fine scorrendo sotto Alberto condizioni eh costo fisso costo per consumi no non mi pare che ci siano sconti qua sconti di fedeltà vediamo condizioni contrattuali lo apri un attimo vediamo ma in genere gli sconti vengono evidenziati con quel bollino no i recessi e i rinnovi sono tutte condizioni che eh in realtà sono eh diciamo determinate le modalità di recesso di modifica di rinnovo delle condizioni sono tutte determinate da Rera eh diciamo perché nei contratti diciamo gli operatori nelle condizioni proprio contrattuali eh i termini di recessi eccetera eh diciamo sono più o meno uguali per tutti non possono dispostarsi dal codice di condotta commerciale quindi insomma eh diciamo come via via che scorriamo questo lungo elenco di offerte eh ci allontaniamo sempre di più dalla dalla convenienza del mercato tutelato come vedete eh addirittura si arriva a pagare cento centotredici quindi le prime elencate sono le più convenienti le prime elencate sono più convenienti sì e sono più convenienti rispetto a cosa rispetto al costo perché la la Rera ti fa il confronto con la la maggior tutela ok vedi naturalmente la diciamo cambiando consumi eh noi abbiamo scritto duemila e pasta che sono quelli della mia famiglia grosso modo ma usavo un quattro e cambiando consumi magari troviamo tutte altri operatori e tutte altre offerte ecco eh fate molta attenzione alla data di eh diciamo a fino a quando è valida questa offerta perché ad esempio se io telefono a che cos'è questo a Vivi Energia eh e voglio l'offerta che si chiama prendete anche no ehm no nota del codice dell'offerta e questa si chiama Vivi Plan Real Fix 24 luce vabbè dovete dire io voglio questa offerta qua e se e se dicono no non è più disponibile sul mercato ne abbiamo un'altra e allora eh voi dovete dire no però attenzione sul portale a Rera questa offerta me la dà eh opzionabile fino al 6 se io chiamo il 3 giugno se l'operatore mi dice che non è più conveniente che non è più disponibile eh mi sta un po' truffando no perché gli operatori sono obbligati da Rera a inserire in questo portale le loro offerte d'accordo quindi se tu mi dici che hai questa offerta quando io te la chiedo tu non mi puoi prendere in giro e dire no non c'è più questa offerta adesso ce n'è un'altra ok perché questo purtroppo ogni tanto lo fanno ma bisogna essere preparati e dire sul sito di Rera me la dà ancora come opzionabile quindi chiedo il rispetto di questa di questa vostra dichiarazione che è una dichiarazione fatta su un portale appunto della regolazione non so mi vengono in mente così quelle che possono essere un po' le i trabocchetti che possono fare anche nel momento in cui uno dopo tanta fatica trova finalmente l'offerta dei sogni e ti dicono no non è più disponibile va bene allora vado a interrompere la condivisione se ci sono domande altrimenti il portale ecco è abbastanza semplice no poi basta farci anche l'occhio e capire subito quali sono le voci da andare a individuare perfetto posso riportare la mia esperienza che poi vediamo se ci sono anche altri allora io ho trovo il portale dell'offerta molto valido e l'hai presentato bene però diciamo così io ho aggiunto un altro passaggio dopo aver valutato l'offerta dal punto di vista economico io sono andato su trust pilot e ho chiesto quali sono le recensioni della della del fornitore e purtroppo diciamo così a volte si trovano brutte sorprese perché il prezzo è attraente sicuramente però dalle recensioni degli utenti si vede che c'è un qualche problema quindi io questo l'ho verificato personalmente anche con un fornitore su roma perché ne ho fatto esperienza diretta il prezzo era eccellente però poi andando a vedere le le recensioni ho avuto conferma di quello che io avevo sperimentato e che era non una buona compagnia un buon fornitore quindi anche questo fattore è importante però attenzione no alle recensioni perché diciamo intanto mi sembra che l'antitrust abbia proprio la settimana scorsa fatta una multa per esempio ora non c'entra con l'energia è a proposito di recensioni su un portale subito mi pare perché le recensioni si sono scoperte essere fasulle essere magari quelle negative erano della concorrenza quelle positive erano appunto fatte ad arte quindi su questi portali diciamo delle recensioni anche su trip advisor sono state scoperte diverse truffe in questo senso anche dalla polizia postale quindi insomma sappiamo che nell'economia di oggi il tema della della recensione dell'affidabilità è fondamentale e intorno però a questo naturalmente ruota anche tanta artificio ok punto un'altra cosa che mi sento di dire è che se io ho inserito i miei consumi e mi è venuta fuori quella offerta magari ti posso dire guarda falla pure tu perché io mi trovo tanto bene tu magari hai un'abitudine di consumo molto diversa dalla mia per cui magari quella offerta sotto una certa fascia di consumo oppure sopra una certa fascia di consumo potrebbe non essere conveniente magari io ho scelto le fasce ma io faccio veramente la lavatrice la notte tu magari hai scelto le fasce ma fai la lavatrice alle 10 di mattina e allora è chiaro che non stai godendo appieno dell'offerta a fasce non so se mi spiego quindi anche questo discorso della ehm confrontabilità con le recensioni va preso secondo me molto con le molle perché eh fermo restando che uno magari va su un sito certificatissimo e serissimo e già è un qualcosa di eh un'impresa l'altra cosa è capire sì ma non è detto che l'offerta che ehm che io ho selezionato garantendo che avrei fatto la lavatrice di notte poi mi dà tutta un'altra sorpresa tutta un'altra aspettativa di spesa perché magari io ho cambiato le mie abitudini di consumo quindi insomma è un po' più complessa di così la cosa però io sono molto fiduciosa su un aspetto ripeto così come abbiamo imparato a muoverci benissimo nel mondo della telefonia confrontando quanti mega quanti messaggi quanto tempo eccetera quanto traffico mi dai no abbiamo imparato a muoverci abbastanza agevolmente in quel mondo stiamo cominciando adesso a prendere un po' di dimistichezza in termini proprio di ragionamenti con questo mondo che è un po' più complesso obiettivamente eh però eh insomma se noi cominciamo a guardare le bollette a monitorare i nostri consumi a fare un confronto magari da un anno all'altro nel giro di poco insomma diventeremo eh più come dire padroni ecco delle nostre scelte in questo settore e poi lo dico sempre abbiamo dedicato una formazione ad hoc ricordiamoci che se c'è qualche controversia eh con l'operatore c'è un servizio gratuito messo a disposizione dall'autorità che è la conciliazione va bene per cui dovesse arrivare un bollettone che io contesto per x motivi insomma o anche uno strumento di tutela ecco un'altra cosa che volevo dire poi mi diciamo però non vorrei vi vorrei dare ancora la parola è eh attenzione anche ai consumi perché i consumi devono essere eh diciamo ehm per non avere brutte sorprese dobbiamo eh guardare sempre che si tratti di consumi reali e non stimati perché se il mio contatore non manda le letture perché magari salta la telelettura eh diciamo è è bene mh controllarlo il misuratore di tanto in tanto perché altrimenti poi arrivano i mega conguagli e quindi a quel punto io mi sono illusa di avere risparmiato perché le bollette erano tutto sommato ragionevoli e poi mi arriva invece il conguaglio perché è entrata una lettura reale e mi è andata a conguagliare un lungo periodo quindi anche i consumi no sono sempre importanti da verificare se si se sono reali o stimati quindi dateci un'occhiata nella bolletta ci sono altre osservazioni domande non so se rispetto a questo tema della confrontabilità anche con le recensioni insomma avete capito quello che voglio dire insomma ecco fidarsi è bene però capiamo che confronto è sempre una cosa molto delicata eh allora ci sono messaggi nella chat che non ho letto no no ci sono quelli allora visto che siamo alle diciannove e trenta lascerei un attimo eh Valerio e Sabrina Valerio per il saluto delle Agli se riesce a collegarsi sì eccomi eh e anche Sabrina ci dice poi eh come ci organizzeremo a livello territoriale con parrocchi e centri di ascolto per il collegamento con 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 le Agli appunto eh allora eh prima Sabrina e poi Valerio tu concludi salutando tutti visto che l'altra volta abbiamo aperto con il saluto della Caritas iniziale di di Giustino tu concludi con il saluto delle Agli grazie allora sì eccomi ciao a tutti sono Sabrina con qualcuno ci conosciamo e appunto lavoro qui al all'ufficio comunità territorio che voi avete sentito spesso allora noi abbiamo pensato di fare così per agevolare e agevolarvi agevolare le persone che si rivolgono a voi e siccome le Agli hanno messo a disposizione il loro diciamo aiuto tra virgolette soprattutto rispetto alla consulenza e ehm e anche la possibilità di un accompagnamento ehm abbiamo pensato a delle persone a dei volontari tra di voi eh suddivisi nel nel nei diversi territori che possono fare da riferimento rispetto a dei punti di Agli che poi saranno diciamo quei punti dove noi possiamo rivolgerci e per agevolare la cosa però non è non è possibile non è pensabile che chiunque no ha bisogno di una consulenza si rivolge appunto Agli allora questi volontari che adesso io cercherò di presentarvi perché sono presenti e faranno così da punto di riferimento vi faremo sapere più là come cercheremo di organizzarci quali sono esattamente poi i punti delle Agli che a cui noi faremo riferimento allora sapete che la città è divisa per settori quindi abbiamo per il settore centro Laura Saloni eh che non ha il video accesso se si vuole se si vuole presentare un attimo mi senti Laura forse è uscita sono qua sono qua sono qua ecco ti ho seguito tutto Laura poi abbiamo invece per il settore nord Rosetta eccola la vedo ciao invece per il settore resta abbiamo Rita va bene ti abbiamo vista Rita poi abbiamo per il settore sud eh Daniele che lo vedo e c'è anche Simona però Simona però Simona non l'ho vista Daniele è collegato o almeno era collegato sì ci sono eccolo c'è ti vuoi far vedere Daniele non hai il video eccolo sì che abbiamo visto e poi c'è il settore ovest Alessandra Alessandra non c'è il video eccomi buonasera a tutti ecco allora per il momento vi diciamo questo un po' quello che vi ho già detto non mi ripeto loro saranno dei punti di riferimento che avranno direttamente il contatto con l'operatore Agli e a cui ci si può rivolgere per un accompagnamento delle persone che avranno bisogno di una consulenza una cosa che volevo specificare almeno per il momento è che quando le persone andranno al punto Agli naturalmente saranno accompagnate e prima ci sarà un appuntamento però poi piano piano vedremo insomma come fare il ciac tra tutte queste due queste cose e comunque con Valerio ci metteremo d'accordo come diciamo per cedere ecco e anticipo subito che ci sarà un incontro per tutte le equip di prefettura già in programma a fine giugno giusto Sabrina sì ecco in quell'occasione noi daremo degli opuscoli dei debiliano da distribuire nei centri d'ascolto dove tutte queste informazioni e questi riferimenti saranno ben chiari eh lascio la parola a Valerio adesso così concludiamo lui e ringrazio e ringrazio Liliana sempre preziosissima e qualsiasi eh informazione poi ecco è sempre eh reperibile sul manuale dei diritti e nelle e nell'email che compare sul manuale qui si può sempre scrivere per avere informazioni sì sarò molto breve visto l'orario ringrazio anch'io la relatrice per l'interessante eh eh diciamo incontro di oggi e porto chiaramente i saluti della presidente Lidia Borsi e dell'ACRI di Roma che hanno creduto molto in questo progetto insieme alla Caritas e al CAFACRI e è un progetto insomma che sta eh è nato e che adesso eh diciamo comincerà a camminare e però eh grazie chiaramente camminerà grazie agli operatori gli operatori di Caritas e eh laddove ci saranno anche gli operatori e e delle ACRI insomma quindi però e ci tengo a precisare che chiaramente non è che sarete soli insomma in questa iniziativa in questa iniziativa di aiuto e questo in questa parte della formazione diciamo per ora è terminata probabilmente ci saranno anche degli altri incontri più in là anche per fare un una sorta di recap di di confronto di quelle che sono le situazioni che si sono verificate se c'è stato qualche intoppo insomma per poterlo risolvere chiaramente ci saranno anche i i referenti eh Alberto io che siamo i referenti diciamo Caritas e Agli quindi per qualunque cosa chiaramente forniremo i nostri numeri di cellulare per avere un contatto anche diretto le Agli disporranno eh il diciamo un email dedicato e anche un altro cellulare di riferimento per prendere gli appuntamenti e quindi insomma eh la formazione è importante perché prima di poter aiutare bisogna essere formati mi pare che questi due incontri siano stati condensati eh però abbiamo abbiamo fornito una serie di spunti interessanti e chiaramente poi potranno essere anche più là approfonditi e ci saranno comunque i relatori sono stati molto cortesi e a fornire anche dei slide e quindi eh Alberto l'ha già messo eh quelle della volta scorsa in eh in condivisione quindi diciamo possiamo anche eh avere degli spunti poi chiaramente la normativa ora eh cambierà e quindi man mano diciamo eh cerchiamo di essere informati e informati sul su eventuali cambiamenti e niente soltanto questo ringrazio tutti per aver avuto la pazienza di essere ascoltarci fino a quest'ora e ringrazio Alberto quest'ora andando quest'ora e settimana direttare